Per Casted Online con un macchinista facciamo una piccola intervista oggi, in questo giorno, dell'inaugurazione del nuovo tratto della metropolitana che porta da Monserrato al Policlinico. Ci dica il percorso intero con gli altri svincoli delle metro? Il percorso sarà da Piazza Repubblica al Policlinico, diventerà una tratta unica. La percorrenza sarà di circa 21 minuti, con una frequenza di 10 minuti l'una dall'altra. Benissimo. Quanto tempo si risparmia con questo mezzo, con la metropolitana? Rispetto a un altro mezzo pubblico, penso oltre la mezz'ora. E come è frequentata? C'è molto pubblico? Ci sono molti passeggeri? Abbastanza, sì. Ci sono delle fasce più o meno affollate, sì, a seconda delle ore di punta, diciamo. Le fermate in tutto sono? Sono nove. Nove. E io le devo fare i complimenti perché ho notato che è pulitissimo, non ci sono atti vandalici, non ci sono scritte, non ci sono... Sì, no, diciamo che abbiamo un'utenza abbastanza, abbastanza rispettosa di questo mezzo. Dovuto a che cosa, secondo lei, proprio? Ma dovuto anche alle telecamere, secondo me, che fanno da... Deterrente? Deterrente contro questi attivandatici, sì. Bene. E volevo sapere anche questo, se era un evento aspettato questo? Sì. Se era richiesto dall'utenza? Sì, abbastanza. Dalla l'utenza? Perciò occuperà anche il nuovo, in questo momento di crisi, occuperà anche il nuovo personale? Il nuovo personale, sì. L'era integrato. Con questa nuova linea? Sì. Il nuovo tratto è breve? Di quanti chilometri? Di 1,7 chilometri è stata allungata, sì. Perfetto, è stato molto gentile, a presto, grazie, arrivederci. Ci dirigeremo verso Dotardo. Ci dirigeremo verso Dotardo, perfetto, grazie. Grazie.